Le violenze, comprese quelle con pretesti religiosi e le disgrazie o le calamità naturali, hanno accompagnato sempre la storia dell'umanità. E noi oggi possiamo aggiungerci anche i deliri terroristici, la facilità con cui nella nostra società così complicata si può fare del male agli altri per i motivi più stupidi o più lucidamente folli. La nostra città, la nostra comunità di Crema ne ha avuto un esempio fin troppo eloquente nei giorni scorsi. E di fronte a questo stato di cose torna inevitabile per un credente l'interrogativo che sta dietro anche ai fatti di cronaca a cui si allude nel Vangelo di questa terza domenica di quaresima. Un'ordine crudele di Pilato che manda a morte alcuni che stavano offrendo dei sacrifici nel Tempio o una torre che crolla che travolge 18 persone. E Dio dov'era? Cosa faceva? Poi addirittura ha mandato lui in questi eventi, ha colpito lui attraverso la violenza degli uomini o la fatalità della disgrazia delle persone che avevano delle colpe, che meritavano in qualche modo questo destino? E' inutile che ce lo nascondiamo, i dèi di questo genere circolano ancora tra di noi e si allidano nella nostra psiche o in modi di guardare a Dio e al nostro rapporto con Lui che non si sono ancora lasciati veramente convertire dal volto di Dio annunciato da Gesù Cristo e dal suo Vangelo. E Gesù spazza via con decisione tutte queste concezioni che fanno di Dio una specie di piscolero vendicativo nel quale proiettiamo forse le nostre idee, le pulsioni e i desideri cattivi che ci sono nel nostro cuore ma che stravolgono il volto di Dio. No, decisamente il Dio di Gesù non è così. Al tempo stesso però Gesù lancia ai Suoi ascoltatori e anche a noi una domanda seria. Che cosa ne facciamo del tempo che ci è dato, della vita che ci è donata? Il fatto che Dio non sia un padrone, un tiranno che spaventa e punisce magari a tradimento non significa che sia poi una specie di babbo natale, monaccione a quale va bene tutto. L'amore misericordioso di Dio, che Gesù non si stanca di annunciare, è una cosa seria. Talmente seria che Gesù non ha neanche paura di dire due volte se non vi convertite per i reti tutti allo stesso modo. Ma si tratta appunto di convertirsi all'amore di Dio. Quell'amore così bene simboleggiato nel rovetto che Mosè contembla secondo la prima lettura del libro dell'Esodo, dove appunto vede un fuoco che brucia ma non consuma, non distrugge, perché è qualche cosa che viene dal cuore di Dio e annuncia appunto il suo amore per il quale Egli scende a salvare il suo popolo dalla morte. E' il rovetto che preannuncia quell'amore per il quale Dio arriva a donare il suo stesso figlio perché impariamo a riconoscere quanto siamo amati e a prendere su sé, a nostra volta, l'unica legge che conta veramente e che è appunto la legge seria, esigente dell'amore. Senza questo la nostra vita rimarrebbe sterile, priva di frutti come indica bene la piccola parabola del fico perché questo è il vero dramma. A che cosa serve un algoro da fichi che non produce frutti? A che cosa serve una lampada che non fa luce? A che cosa serve del sale che non ha sapone? Gesù è molto concreto e torna spesso a questo tipo di immagini perché questo è in definitiva il pericolo mortale e il rischio di buttare via la propria vita come una cosa inutile che si getta nella discarca. E' questa la perdizione dalla quale il Signore è venuto a salvarci dando la sua vita per noi. Niente paura di un Dio che punisce, dunque, ma conversione seria al suo amor, raccogliendo il tempo della misericordia che ci è dato perché la nostra vita non resti inutile o vanna ma porti un frutto abbondante.